Sono state ore d'apprensione dopo l'incidente di domenica alle melette quando un bimbo di 7 anni è scivolato dalla seggiovia ed è precipitato sulla strada sottostante. È stato grazie all'intervento di una persona che sedeva accanto a lui e dei tecnici della cabina di comando se non si è verificata una tragedia. Il mio unico pensiero oggi è rivolto appunto al ragazzo, spero che superi bene questa operazione e spero di poterlo vedere insieme con i suoi genitori a Gallio. Poi io vorrei anche porre l'attenzione su quella persona che è in seggiovia e che grazie al suo contributo quando il ragazzo è appunto scivolato erano ad una certa quota dove sotto ci sono tutte rocce o ceppaie. Ha permesso di far cadere il ragazzo non da una certa altezza ma da un'altezza leggermente inferiore e sul ciglio della strada. E quindi io voglio ricordare anche questo perché questa persona che oggi non sappiamo chi sia io invece la vorrei premiare, la vorrei conoscere e vorrei dire un grazie di cuore perché a mio avviso tu hai salvato questo ragazzo. Intanto come già detto la procura ha aperto l'inchiesta, i carabinieri stanno svolgendo le indagini e c'è chi chiede se non sia il caso di posizionare reti di protezione proprio sotto la seggiovia. Il collaudo è stato effettuato, l'impianto va bene così, poi se vorremmo andare ulteriormente avanti questo lo possiamo fare. Il Comune di Gallio ovviamente si è prontamente assicurato fin dall'inizio dell'accensione di questo impianto quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista perché altrimenti se vale il fatto delle reti su tutto dovremmo mettere le reti su tutta la lunghezza di ogni seggiovia ma questo sappiamo che è impossibile e non è richiesto. Nel caso si dovesse decidere per la chiusura temporanea della seggiovia questa cosa andrebbe a pesare tantissimo non soltanto sulle melette ma in generale sull'intero ottopiano? Questo sì ovviamente, noi abbiamo investito tanto sulle melette quindi non possiamo permetterci di pensare di poter chiudere questo importante impianto.